Do subito la parola al professor Oscar May, in rappresentanza della missione archeologica italiana Cirene, al quale rivolgo l'invito da tenersi strettamente al tempo richiesto, un quarto d'ora al massimo, per una tematica quale quella dei musei archeologici della Cirenaica e la loro tutela. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Grazie, infatti passiamo ad un argomento un pochino spinoso, delicato, parlando di musei della Cirenaica ovviamente parliamo di strutture che poco hanno a che vedere con le strutture che abbiamo visto nella mattinata e nella giornata di ieri, quindi si tratta soprattutto di strutture semplici dove i materiali archeologici vengono raccolti, protetti e sono anche, o erano fino a poco tempo fa, fruibili al pubblico. La missione archeologica dell'Università di Urbino lavora in Cirenaica dal 1957, quindi abbiamo festeggiato diciamo da poco i 50 anni di missione e ecco, questa è la localizzazione di Cirene e Cirene è l'area archeologica in pratica più grande o tra le più grandi della Libia. Si tratta di un'area immensa, gli scavi sono iniziati nel 1913 con il ritrovamento della famosa statua del Venere di Cirene che è stata restituita alla Libia nel agosto del 2008 e l'Università di Urbino, ecco è attiva, questa è la foto satellitare dell'area archeologica di Cirene, è attiva soprattutto in queste aree che sono l'area del Cesareo, l'area del Lagorà, il santuario dei Dioscori e in alcune aree extraurbane, soprattutto l'area del santuario di Demetra, quindi leggermente al di fuori della cinta muraria di Cirene e questa foto risale appunto a novembre del 2013, questa è una foto recentissima perché la missione archeologica di Urbino, insieme anche ad altre missioni archeologiche, è attiva ancora sul posto, ovviamente con tutte le cautele del caso, a ranghi ridotti, però si vuole dare comunque un segnale forte anche alla popolazione locale, quindi si cerca di, grazie anche al sostegno del Ministero degli Esteri che non ci è mai mancato, si cerca di dare appunto un segnale anche di continuità, c'è da dire che c'è una risposta grandissima da parte delle autorità locali, quindi soprattutto del Dipartimento di archeologia di Cirene, quindi della locale soprintendenza archeologica di Cirene e qui si è creato negli ultimi anni un forte team di archeologi e di restauratori, è nato grazie soprattutto alla collaborazione con le università straniere che lavorano in Libia da decenni, non solo italiane ma anche di altri paesi del mondo e le tre colonne che vedete in alto, le tre piccole colonne del piano superiore della cella del Tempio di Demetri sono state ricollocate appunto tra ottobre e novembre dell'anno scorso con il supporto, continuo a dire, degli operai e restauratori del Dipartimento di archeologia di Cirene. In quest'area diciamo che l'area archeologica di Cirene ha sofferto poco, relativamente poco rispetto riguardo alla guerra del 2011, hanno tentato di asportare delle teste di un mosaico delle quattro stagioni, questo è il danno più rilevante che c'è stato, ma si trattava forse probabilmente di un furto su commissione perché era un mosaico molto famoso, pubblicizzato online e quindi hanno approfittato di questo momento turbolento per cercare di asportarlo. I danni maggiori ci sono in periferia, quindi nelle necropoli, però è difficile anche oggi quantificare e capire bene quali sono questi danni. Le ruspe si avvicinavano anche al santuario di Demetra e anche per questo abbiamo cercato di dare un segnale forte a tutta la popolazione locale e quindi far vedere che anche in questi periodi la nostra attività e l'attività del Dipartimento dell'archeologia della Libia continua. E questa è un'immagine ormai che è diventata d'archivio, cioè il ritorno della Venere di Cirene al Museo di Cirene, restituita nell'agosto del 2008 a Tripoli, da Berlusconi a Gheddafi e poi subito è partita per Cirene e a settembre del 2008 eravamo lì e c'è stata questa grande cerimonia con il professor Luni e poi le autorità libiche che hanno parlato, mi piace ricordare il compianto soprintendente Abdul Gader Mzeni che è scomparso da poco e la Venere di Cirene vedete davanti alla porta del Museo di Cirene e c'è stato un grandissimo concorso di pubblico, le autorità libiche ma anche i cittadini comuni sono consapevoli diciamo nella maggior parte, diciamo non tutti ovviamente, ma sono consapevoli di far parte di una realtà storica di inestimabile valore, di inestimabile prestigio e con le loro forze provano e cercano e riescono possiamo anche dire fino ad ora a proteggere il loro patrimonio. Questo è l'ingresso del Museo archeologico attuale di Cirene che è ospitato in magazzini e museo in alcuni capannoni d'anteguerra dove ricoveravano gli aerei della Savoia Marchetti, allora questo è il deposito e questo è l'ingresso del Museo e questa è una foto d'insieme dei reperti che sono all'interno del Museo. Il Museo è stato preservato e anche l'area archeologica perché i funzionali libici del Dipartimento hanno addirittura dormito dentro il Museo nell'area archeologica armati per proteggere il sito durante i periodi diciamo più turbolenti e per fortuna ecco il museo è ancora intatto con i suoi reperti all'interno, ci sono reperti di inestimabile valore storico, una sfinge rarissima, le tre grazie, scorro molto velocemente alcune immagini dei reperti che sono nel museo, ancora un'immagine della sfinge, Alessandro, Magno, la testa in marmo di Zeus che proviene dal Tempio di Zeus di Cirene che è uno dei più grandi templi, più importanti templi di epoca classica, ma ci sono anche altri musei in Cirenaica che ospitano dei reperti di grandissimo valore. Il più vicino a Cirene è quello di Apollonia, anche qui è stato dato un forte segnale alla comunità libica in primis perché il museo di Apollonia è stato restaurato l'anno scorso, è riaperto al pubblico l'anno scorso, quindi in un periodo difficile anche per loro. Questa è la facciata del nuovo museo di Apollonia Susa e questi sono alcuni dei reperti, ovviamente le vetrine sono quelle che sono a loro disposizione, quindi sono vetrine di alluminio, oppure vedete che i reperti comunque sono di eccezionale pregio, sarcofagi, statuette votive e ancora. E Apollonia sta soffrendo anche lì non tanto l'arte archeologica centrale ma i magazzini, ma anche di questo non posso dirvi niente di preciso perché non si capisce bene ancora la portata di questi danni che possono essere avvenuti. E poi, passo velocemente perché il tempo è poco, un altro museo che non ha subito danni in Cirenaica è il museo di Kasser Libia che è una zona interna all'interno della costa della Cirenaica, a 60 chilometri circa da Cirene, dove nel 57 è venuta alla luce una basilica cristiana con dei mosaici interessantissimi di VI secolo d.C. che non hanno subito danni. Queste sono alcune immagini di questi mosaici con il primo pannello che riproduce, secondo l'ipotesi che va per la Maggiore, il faro di Alessandria, sono l'unica immagine del faro di Alessandria dell'antica, e poi altre immagini che sono una compenetrazione di temi cristiani e temi pagani all'interno di una basilica di VI secolo d.C. Vado veloce perché i pannelli sono 50 che fanno parte di questo mosaico pavimentale. Eccoli qua. E anche questi non hanno subito danni. Kasser Libia, come tutti gli altri musei della Cirenaica, i funzionari hanno murato le porte e le finestre in questo caso, mentre i Cireni hanno dormito all'interno e hanno cercato di chiudere meglio le porte, in questi altri musei hanno murato le porte e le finestre. Quindi i materiali che sono conservati all'interno dei musei della Cirenaica sono salvi al momento. Come dicevo prima, quelli che hanno sofferto di più sono i materiali nei magazzini, quindi sono quelli che non sono stati all'inizio protetti con la dovuta cautele, perché ovviamente ci si è preoccupati di salvare soprattutto gli oggetti, i reperti e le aree archeologiche più importanti. Derna, una zona caldissima. Ho solamente queste immagini di alcuni reperti conservati all'interno del museo che è stato chiuso invece durante la guerra e gli oggetti sono stati trasferiti per metterli in sicurezza. Andando invece verso ovest, altri due musei fondamentali sono Tolemaide, questo è l'ingresso del museo di Tolemaide, anche qui murate, porte e finestre, anche qua vedete l'importanza dei reperti che sono conservati all'interno di questa struttura museale, mosaico con le quattro stagioni, mosaico di Orfeo e gli animali, e Tocra. Tocra è forse quello che ha sofferto di più, ma non durante la guerra, ha sofferto prima. Attualmente non è facile capire se ha subito ulteriori danni, anche qui hanno murato porte e finestre. Tocra è importante soprattutto per uno scavo effettuato negli anni 60-70 da John Boardman e John Hayes, che hanno pubblicato due volumi di ceramica arcaica, hanno scavato una stipe del santuario di Demetra di Tocra, e questi due volumi sono, diciamo, delle pietre miliari della ceramica arcaica, possono essere lo studio della ceramica arcaica. Io sono stato a Tocra nel 2008 e già nel 2008 molti reperti sono spariti, quindi alcuni vasi non sono più interi, quindi se si fa il confronto tra le fotografie pubblicate e le fotografie del 2008, mancano diversi frammenti dei vasi. E questo, ecco, è ospitato in un fortino del secolo scorso, questo è l'ingresso, con questo rilievo è sopra la pianta dell'area archeologica, e queste sono le immagini dei reperti che sono uscite a fotografare dalle vetrine del museo di Tocra. Ceramica laconeca, statuette votive, tutto di settimo e sesto secolo avanti Cristo. E chiudo, spero di essere stato nei tempi, se non l'ho fatto prima addirittura, chiudo con invece un aspetto positivo, un altro aspetto positivo, perché non sono tutti aspetti negativi, gli aspetti positivi forse sono quelli maggiori. Nel 2010, proprio quindi prima, nell'ultima missione che abbiamo effettuato a Cirene, nell'ultima missione, diciamo, a ranghi completi, perché poi abbiamo continuato, la missione è stata attiva subito, già dal dicembre 2011, dopo la morte, in pratica, di Gheddafi, siamo andati in Libia, nel 2012, fino a novembre dell'anno scorso. Nel settembre 2010 siamo riusciti a fotografare dei reperti importantissimi, che sono tuttora custoditi nella banca di Libia, di Albeida. Albeida è la terza città della Libia, dopo Tripoli e Benghazi, e si trova a 10 chilometri neanche da Cirene. Abbiamo avuto i permessi per entrare nel cavo della banca, e ci hanno permesso appunto di documentare questi oggetti in oro, che sono tre colonnine in oro, medaglioni, sempre in oro, quattro medaglioni, e 40 monete, sempre d'oro. È tutto un materiale di IV secolo d.C., che è stato rinvenuto nel 1968 a Sidi Bouzeid, che è una località vicino Barce. Nel 1968 tutto il materiale è entrato nella banca di Beida, perché tutti i materiali più preziosi sono sempre andati all'interno dei cavo delle banche, come il famoso tesoro di Benghazi, di cui avrete sentito parlare, che poi è scomparso, ma sembra che una parte sia stata ritrovata ad Alessandria, ad Egitto, però ancora si devono avere conferme in questo senso. Il tesoro invece di Barce si è conservato, in parte, e grazie a questa documentazione abbiamo potuto risalire anche agli altri pezzi che fanno parte del tesoro e che sono conservati in altri musei del mondo, cioè al British Museum, al Louvre, a Washington e a Cleveland. In questo modo abbiamo potuto ricostruire questo gioiello preziosissimo che era sicuramente di un dignitario romano molto ricco di IV secolo d.C., e si tratta probabilmente del gioiello più importante che possediamo al mondo di questo periodo. Ed è stato anche recentemente pubblicato. Si trova tuttora ancora nella banca, almeno a nostra conoscenza, all'interno della banca di Albeida. Per una sfortunata circostanza non siamo riusciti a fotografare il tesoro di Benghazi, perché proprio nel settembre 2010, avevamo quasi tutti i permessi, mancava una lettera, dovevamo tornare nel marzo 2011, ma è successo quello che è successo, e poi non siamo riusciti quindi a documentare questo tesoro. E concludo ovviamente con un auspicio, cioè che si torni nel più breve tempo possibile a una situazione favorevoli e stabili per continuare questa collaborazione con le autorità libiche, soprattutto con il Dipartimento dell'Antichità della Libia, per la salvaguardia di questo patrimonio archeologico che è inestimabile. E vi ringrazio. Ringrazio il professor May per questa bella e rapida presentazione, che in effetti ha messo in luce alcuni punti fondamentali, tra i quali per esempio la continuità della presenza italiana anche in anni estremamente difficili. Ricordiamo che già alla fine del 2011 alcune missioni italiane avevano ripreso contatto col territorio libico. Quella immagine suggestiva del ritorno, della riconsegna, oserei dire, del ritorno della Venere a Cirene mi ha fatto venire in mente un po' per la compressione dell'immagine mi ha fatto venire in mente l'avvenere degli stracci di pistoletto lavorata dal 67 in poi, presentata dal 67 in poi con questa sorta di affaticamento, potremmo dire, della Venere, così come ci sono delle belle riflessioni che ho incontrato lavorando su questo tema di De Chirico sulla statua nella piazza, nel palazzo, nel museo, dice nel palazzo ha sempre qualcosa di omerico, un piacere severo e distaccato con una punta di balinconia sulla piazza ha un aspetto eccezionale soprattutto se poggia su un piedistallo basso, nel museo assume un aspetto ancora differente ci colpisce per quel che ha di irreale. Ecco, allora, visto che De Chirico ci ha accompagnato ci ha riportato il nuovo museo, do la parola, grazie, alla dottoressa Almaria Feche